Si sono staccati ieri notte alcuni pezzi di calcestruzzo che coprono il ferro nella parte sottostante del viadotto di San Giacomo sulla A24 Roma-Teramo, proprio nel tratto che attraversa l'Aquila. Sono finiti in via Gabriele Rossetti, nel quartiere di San Giacomo appunto, che è stata chiusa in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti anche i vigi del fuoco con 5 unità, che grazie alla Toscala sono riusciti a rimuovere tutto ciò che era in imminente crollo, lavorando su una lunghezza di 200 metri. A segnalare il fatto sono stati alcuni cittadini. Il distacco si è verificato all'altezza del chilometro 105 della A24. C'erano anche alcuni tecnici della Stada dei Parchi. Il tratto autostradale resta comunque percorribile, non essendoci stati danni strutturali del viadotto. Questa mattina c'è stato anche un intervento di ripristino con l'asilio del Baerbaig. Gli uomini del 115 hanno rilevato un degrado strutturale del calcestruzzo che copre i ferri, tra l'altro ossidati, nella parte sottostante. Nelle due autostrade è stata effettuata una prima parte di messa in sicurezza con un intervento di antiscalinamento, ma non su ponti e viadotti, a causa di un blocco di fondi. La notizia ha destato molta preoccupazione, soprattutto dopo il crollo del ponte Morandi.